Toma in Italia, buongiorno, sono Cristian, come posso aiutarti? Ciao Cristian, buongiorno. Ho appena effettuato un ordine sul vostro sito, ma ho dimenticato di aggiungere un articolo. Pensi sia possibile modificarlo? Certo, potresti darmi il tuo numero cliente? Guarda, il mio numero cliente è 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ok, controllo subito. Allora, vedo che purtroppo l'ordine è già stato spedito questa mattina, però in questo caso se vuoi possiamo mandarti via mail un codice free shipping per la spedizione gratuita del tuo prossimo ordine. Potrebbe funzionare? Mi sembra un'ottima idea, ma come devo procedere? Allora, in questo caso ti invieremo una mail con il codice del free shipping e ti basterà inserire il codice nella sezione commenti dell'ordine e noi provvederemo a rimuovere le spese di spedizione dal tuo ordine. Guarda, fantastico, grazie mille per l'aiuto Cristian, sei stato davvero gentilissimo. Di nulla, figurati, buona giornata. Sai cosa abbiamo in comune con te? La tua stessa passione per la musica. La tua stessa passione per la musica.